In omaggio anche un saluto ai miei ospiti di oggi che direttamente dalle Caiman si stava dicendo arrivano con le loro foglie, sono Francesco Garbin Guarducci e Alessio Pacini, Presidente e Vice Presidente del Comitato Promotore della Banca Popolare di Prato, benvenuti, bentornati. Ciao Lorenzo, buonasera a te e ai radioascoltatori. Buonasera a tutti. Vi pregherei di girarvi il microfono, a rimpallo di linea, come dicevano i buoni Ameri e Ciotti, a rimpallo di linea dai vari stadi, nell'ordine i campi collegati. Scherzo con loro perché sono due ragazzi simpaticissimi, pieni di risorse, poi li conosco abbastanza bene da tempo. E allora facciamo poi il punto, siete venuti qui a presentare quella che era la Costituenda Banca Popolare di Prato e tornate a presentare quella che è la Costituenda Banca Popolare di Prato, nel senso che ancora non è nata. Tanto per cominciare dal punto chiave, Francesco. Sì, diciamo, dallo scorso incontro Lorenzo dei passi in avanti sono stati fatti e anche, direi, dei passi notevoli. Ad oggi abbiamo quasi completato l'allargamento del Comitato Promotore, alle 50 persone ci eravamo prefissi e siamo in procinto di presentare il prospetto informativo in Consob. Dopodiché potrà, ricevuta l'autorizzazione, potrà iniziare la raccolta del capitale sociale che, come ricordo, parte da un minimo di 10 milioni di euro. Quindi di passi in avanti ne abbiamo fatti. In questo tempo si sono, diciamo, susseguiti una serie di appoggi da parte delle istituzioni e delle aziende di Prato a sostegno dell'iniziativa. Ricordiamo l'entrata nel Comitato Promotore della Coppa Visenzi-Ombrone di Consiag, dell'appoggio dei comuni della provincia di Prato e della SM. Ad oggi questi sono i traguardi raggiunti. L'appoggio che vuol dire? L'appoggio vuol dire che queste associazioni, questi enti pubblici, vedono di buon occhio la nascita di un istituto di credito di e per Prato e quindi stanno seguendo con attenzione l'iniziativa e al momento opportuno faranno la loro parte. Diciamo che il primo momento è questo. Faranno la loro parte significa che complimenti ragazzi a andare avanti, è una bella idea, l'azionariato popolare ci piace, cominciate a tirare fuori i soldi. Voi e poi noi vi seguiamo a ruota oppure c'è la buona intenzione di sottoscrivere, anche perché ci sarà bisogno di una raccolta fondi per arrivare a questi 10 milioni di euro. Infatti, l'intenzione sarebbe quella che poi gli enti, oltre che avere l'intenzione di appoggiare l'iniziativa, sia quella di entrare con, noi la chiamiamo fisce, entrare con una fisce all'interno dell'azionariato della banca vera e propria. Sicuramente, oltre che dell'appoggio degli enti, degli sponsor oppure delle associazioni, ci vuole anche tutti i cittadini o chi interessato, io spero più cittadini della città di Prato possibile, di partecipare anche con una piccola quota per entrare a far parte all'interno del progetto. Per noi questa cosa diventa fondamentale, diventa fondamentale perché proprio il progetto popolare prende forma se c'è una massiccia partecipazione, perché se non c'è una massiccia partecipazione si rischia di avere una banca un po' per pochi. Invece il nostro progetto è proprio quello di avere un istituto rivolto a più persone possibili. Quando sarà il punto di non ritorno? Il giorno in cui direte o succede questo oppure non se ne fa più di nulla? Nel senso, quando è la scadenza entro il quale cominciare a vedere muovere qualche fisce? Allora, tecnicamente la cosa sta in questi termini. Noi a breve presenteremo, e per breve intendo entro maggio, il prospetto informativo in Consob. La Consob si può prendere da un minimo di tre a un massimo di sei mesi per autorizzare la raccolta. Noi prevediamo che questo avvenga intorno a settembre-ottobre di quest'anno. Di lì scatterà il countdown, il conto alla rovescia, di un anno circa. In quell'anno lì noi dovremo raccogliere i 10 milioni di euro. E quello è il punto di non ritorno, perché se alla scadenza non saranno addensati i capitali per costituire il capitale di rischio della banca, l'operazione non andrà a buon termine. Viceversa, come noi speriamo e le sensazioni che abbiamo ci fanno ben sperare nella riuscita del progetto, al momento in cui avremo messo insieme il capitale sociale, potremo convocare l'assemblea e costituire la cooperativa, cioè la Banca Popolare di Prato. Successivamente viene chiesta l'autorizzazione a Banca Italia ad aprire lo sportello, la quale Banca Italia si prende circa sei mesi di tempo per concedere l'apertura. Noi prevediamo intorno, per dare una data, il primo gennaio 2015 di diventare operativi. Nel frattempo i rapporti che avete avuto con Consob, come sono stati? Attualmente abbiamo fatto dei primi incontri di tipo preliminare, dove una parte della documentazione è stata non ufficialmente consegnata, anche perché finché non viene fatta la consegna di tutta la documentazione, Consob non esprime il suo parere. Però diciamo che i nostri consulenti e in modo particolare anche tutti i partecipanti al Comitato Promotore si sono dati da fare per cercare di dare più punti a questo progetto per poi essere presentato. Come diceva prima Francesco, l'intenzione è quella di andare in Consob con il progetto completo per la richiesta dell'autorizzazione nell'arco del mese 21. Quel punto anche per avere in tempi abbastanza brevi, insomma le indicazioni sono quelle di avere risposto abbastanza brevi, per ritrovarsi poi dopo le vacanze estive a ripartire con la ricerca del capitale sociale. Siamo in un momento molto particolare per le banche, quindi o è quello giusto per lanciare una forma nuova e innovativa di banca o è quello sbagliato per parlare con la gente di banche. Che sensazione avete avuto? Incontrando i cittadini perché anche questo avete fatto. Certo Lorenzo, il momento come ha detto giustamente te è particolare. Ma non solo per la crisi, è proprio perché le banche rappresentano una figura in cui alcune crollano in maniera verticinosa, anche essendo legate a doppio filo alla politica. Altre sono imputate di aver partecipato direttamente alla crisi economica chiudendo i rubinetti del credito alle imprese e anche alle persone. Ultimamente a Prato è scoppiato il caso delle banche e dei fidi facili alle aziende cinesi che non hanno garanzie troppo pulite. Ieri c'era l'assessore Milone qui che ce lo spiegava. Quindi ci servirebbe proprio una banca popolare in mano ai cittadini trasparente. Vi faccio anche un po' di pubblicità anticipata. La fattura ve la mando tu. Benissimo. Diciamo, la tua analisi è pressoché corretta. Aggiungo soltanto una cosa. In questi ultimi tre o quattro anni abbiamo visto nella fase di avvitamento economico che ha caratterizzato diciamo l'Italia e l'Europa in generale abbiamo visto il settore bancario soffrire fortemente con riduzione delle azioni delle banche quotate in borsa le più grosse a punte anche del 90% e oltre vedendo anche il caso qui a noi vicino geograficamente del Monte dei Paschi. Viceversa invece quello che ci dice la letteratura in questo momento è che le banche del territorio le banche in particolar modo le banche popolari di credito operativo hanno fatto bene in questi anni hanno continuato a fare il loro lavoro cioè fare le banche, stare accanto alle famiglie, alle aziende e in questo momento così difficile hanno cresciuto il loro valore e hanno continuato a staccare dei dividendi per i propri soci. Quindi noi pensiamo e tutti i giorni ne siamo confortati dai contatti dai confronti che abbiamo con i cittadini di Prato che una banca del territorio nella città di Prato potrà fare bene, è un qualcosa che serve e che quindi va costruita insieme con un piano industriale partecipato e quindi noi invitiamo ancora una volta le persone ad avvicinarsi al progetto a proporre le loro idee e soluzioni perché vogliamo veramente creare uno strumento per la città che possa aiutare tutti noi nei nostri progetti di vita personale e progetti aziendali. Faccio una domanda così che mi è venuta al volo ci sono realtà bancarie già del territorio che potrebbero essere avvicinarsi a voi? No, allora proprio sul territorio di Prato insomma si sta prendendo i primi contatti con il credito operativo dell'area pratese però diciamo avvedendo dato che si fa di aree vaste di macrozone macroregione abbiamo già preso dei contatti abbiamo già avuto anche delle risposte molto interessanti tra cui la Banca Popolare di Cortona la Banca Popolare di Laiatico in modo particolare che sarebbero due istituti di credito sul territorio regionale che interessate anche all'operazione per andare a creare questo gruppo di Banca Popolare all'interno del territorio regionale toscano ci sono anche altri istituti perché andando anche a vedere il nostro territorio anche se fuori regione insomma abbiamo analizzato anche altri istituti di carattere popolare per capire sia il funzionamento sia come l'istituto si muove sul territorio perché insomma oltre che la Toscana il mondo è anche molto più ampio rispetto specialmente nel mondo della finanza il progetto sta andando avanti i contatti si stanno piano piano stanno migliorando e allo stesso tempo abbiamo avuto come dicevo come dicevo prima delle risposte interessanti per aderire speriamo anche qui con una bella fisce da parte degli istituti di credito quegli istituti che appunto sono rimasti più legati al territorio appunto il credito cooperativo per esempio che se non sbaglio ha stipulato anche alcuni accordi con associazioni di categorie legate al mondo artigiano CNA confartigianato proprio per incentivare agevolare in qualche modo le aziende ecco la risposta che avete avuto dalle associazioni di categorie che richieste magari dagli industriali oppure dagli artigiani che sono quelle che più in sofferenza legate al mondo bancario le associazioni di categoria vedono di buon occhio la nascita di un istituto di credito del territorio tuttavia la fase essendo ancora in una situazione embrionale sono state avviate dei confronti per diciamo scambiare le prime idee e fare le prime riflessioni in merito tuttavia in seguito alla presentazione del prospetto informativo dove la documentazione il piano industriale sarà come dire concretizzato avremo degli elementi oggettivi su cui avere un confronto con le associazioni di categoria comunque ripeto le stesse associazioni in alcuni confronti avvenuti qualche mese fa hanno manifestato il loro interesse ed espresso un'opinione positiva sull'iniziativa e richieste specifiche magari di qualche modo servirebbe la banca che servirebbe che cosa sai Lorenzo le richieste specifiche aspettano che la banca esista aspettano che la banca diciamo trovi la sua partenza tuttavia come dire quello che emerge è una attenzione un'attenzione alle aziende in particolar modo ai progetti delle aziende a una valutazione diversa rispetto a quella che viene fatta in questo momento qui noi uno degli elementi importanti che vorremmo introdurre un'innovazione che vorremmo introdurre è riportare l'etica nel sistema bancario ed è il motivo perché un gruppo di cittadini volenterosi ha voluto far partire questa iniziativa perché non condivideva più il metodo con cui veniva affrontato il sistema bancario dagli attuali player sulla città ma anche sul territorio nazionale noi pensiamo che una banca attenta al proprio territorio che abbia le capacità sia tecniche che diciamo anche di valutazione imprenditoriale per valutare e verificare diciamo le opportunità che i nostri concittadini sapranno mettere insieme per affrontare il nuovo mercato sia importante una banca del territorio a differenza di una banca non diciamo non locale è quella di dover fare un passo in più nella valutazione nel cercare di capire l'opportunità che quell'azienda potrebbe creare per la nostra città una banca del territorio sta a una banca nazionale come una radio locale sta a un network in qualche modo quindi ci sentiamo vicini anche Radio Insieme appoggia la banca popolare di Prato e siamo pronti anche a spendere fish in tutti i modi io scrivo scrivo va bene c'è la registrazione non impegno qui somigliavi un po' a quelle che ti chiamano a casa per firmare contratti con un solo sì che ecco parlavo prima non so quanto abbiate seguito il caso dei fidi facili ma visto che parlavi appunto dell'etica perché qui si entra proprio nella questione etica ieri affrontavamo con l'assessore Melone questo problema perché a me azienda che sono pronta a investire per rilanciare magari senza licenziare personale o io famiglia o il lavoratore atipico o anche tipico ma che devo comprare una casa non ti basta più neanche l'impegnativa a garanzia e poi ti dispresenta una qualunque azienda cinese e gli dai senza grosse coperture allora non è il problema di chi è del cinese poteva essere anche italiano perché c'è questa discriminante come avete reagito di fronte a questa notizia qui che sta andando avanti per stessa missione dell'assessore c'è in corso un'indagine perché sembrerebbe un fatto molto grave ma da parte delle banche certo l'errore è sicuramente da parte degli istituti di credito questo errore secondo me per una valutazione è quello di non andare ad analizzare in modo concreto in modo approfondito il progetto perché un istituto di credito che vuole lavorare sul territorio e che vuole rilanciare un'economia sul territorio deve come prima cosa andare ad analizzare quello che un'azienda vuole fare quello che un'azienda vuole creare e dove un'azienda vuole arrivare perché se non passa il concetto che l'economia si rilancia con un progetto anche a lungo periodo perché non si può pensare di risolvere i problemi dalla mattina alla sera e in modo particolare gli istituti di credito devono analizzare in modo approfondito lo stesso progetto senza a volte l'istituto sta più attento al come posso dire al contenuto economico economico e non al contenuto del progetto stesso e questo è un problema che mette in difficoltà in modo particolare le piccole aziende ma mette in difficoltà anche le aziende che vogliono crescere delle aziende che vogliono nascere anche sul territorio perché secondo me c'è tanta voglia da parte anche dei giovani e da parte anche di imprenditori di intervenire in modo massiccio sull'economia con dei piccoli progetti da far partire in modo innovativo e questo gli istituti di credito non lo capiscono attualmente ebbene speriamo che insomma che si vada in una direzione diversa anche perché appunto la battuta dell'assessore Milone non basta più nemmeno l'ipoteca sulla casa perché ormai tanto hanno distrutto anche le famiglie che sono piene di immobili non sanno più come venderli perché nessuno le compra più nemmeno all'astra giudiziaria mi sembra una battuta amara ma che sia realistica purtroppo ed è così allora siamo in chiusura io vi ringrazio di essere stato con noi e vi do appuntamento a questo punto dopo le ferie dicevi a settembre a fine anno per poi aspettare l'anno dopo si passa a incassare va bene io andrò a cogliere la sottoscrizione grazie e buona serata ciao a tutti a tu per tu filo diretto con la città